Ciao a tutti, oggi siamo in partenza da Trento, giornata spettacolare a seguito del giorno di riposo che ci ha ricaricato indubbiamente le pile e non solo le batterie delle bici ci apprestiamo ad affrontare una tappa impegnativa corta però un bel arrivo in salita, sega di ala salita impegnativa con pendenze molto importanti, i compagni del mio team Toyota sembrano essere pronti ma comunque questo sole aiuta, aiuta molto quindi sarà una giornata sicuramente divertente, seguiteci Grazie a tutti Grazie a tutti